Oggi è il 12 novembre 1969, guerra del Vietnam, il mondo scopre il massacro di Mi Lai 1989, il segretario del PC Occhetto annuncia la svolta della Bolognina 1929, nasce Grace Kelly Commenta il fatto del giorno Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX Una pagina tragica per le missioni internazionali italiane, la strage di Nasseria Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!